grazie possono lasciare i ringhi i gruppi e posso far entrare dottore le grazie italiane prego abbiamo bracco italiano mastino napoletano cane corso lagotto romagnolo maltese eccole qua queste sono le razze italiane di oggi qui voglio gli applausi perché sono nostre razze un'altra ora Allora, uno dei nostri magnifici cani da caccia, il Bracco Il Mastino Napoletano Che ha la sua claque, che mi sembra giusto applaudire, ripeto, nostre, razze nostre, antiche In questo caso poi nel Mastino Napoletano più che antiche Il Cane Corso È giusto il tempo per il Lagotto Romagnolo per la ricerca del tartufo E siamo proprio in stagione E terminiamo con un cane da compagnia, che è il Maltese Nonostante il nome, assolutamente italianissimo Al terzo posto il Lagotto Romagnolo Secondo posto per il Cane Corso Miglior soggetto delle razze italiane di oggi è il Bracco Complimenti anche agli altri due, grazie mille 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 Grazie a tutti.